L'FP4C mi va ad inviare il valore che tramite la analogica va a leggere sull'HCC. In questa demo è stato implementato anche un invio automatico perché non è che il dato vado solo a richiederlo io tramite dei comandi ma può essere spontaneo quindi arrivare direttamente dal campo tramite ad esempio vado a inserire un biletto da visita vedete che il telemetro ha interpretato che c'è una misura qualcosa sotto il laser e va ad inviarmi il dato vedete che l'ho ricevuto se inserisco un altro biglietto da visita ne riceverò un altro e via dicendo io tutti i biglietti da visita vedete che vado a ricevere il mio dato senza problemi